90 minuti per staccare, il pass e qualificazione al turno successivo si torna in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza sul Prato Verde del Gianni Cosimo di Vittoria. I padroni di casa affrontano il Modica per un big match di assoluto valore per la categoria A. Tutto ancora in equilibrio tra le due squadre dopo il risultato di 1-1 maturato nella sfida d'andata. I biancorossi sono radici dallo 0-0 in campionato contro la Leonfortese, successo pirotecnico invece per gli ospiti che si sono imposti per 3-4 sul campo del città di Mister Bianco. Le scelte di Mister Rufini per affrontare questa partita, Cernigliaro, Mititelus, Sanchez, Sferrazza, Martignetti, Di Giacomo, Privitera, Leggio, Lucarelli, Agudiaci, Cernarozzi inizia la partita dopo 3 minuti ci prova il vittoria. Palla per Martignetti che riesce a liberarsi bene ma va a calciare male dalla distanza e il pallone finisce conseguentemente fuori. Al decimo qualche problema per lo stesso Martignetti che esce dentro di hop. Ventitresimo calcio di punizione Modica, Ido Iaga, para Cernigliaro sulla ribattuta, Cacciola mette il pallone sull'esterno. Al trentesimo ancora il vittoria, rimessa laterale lunga di Primidera, il pallone arriva in zona di Giacomo, va a calciare, lo fa però alto. Minuto 33 risponde la Modica, palla a Cacciola, il tentativo di cross sulla sinistra, finisce a Messina, il tiro al volo, viene bloccato da Cernigliaro. Minuto 38 il vittoria a destra con Lucarelli che cerca Mititello dentro da Giacomo, viene però chiuso l'attaccante. Al quarantunesimo si sblocca il risultato, ancora il vittoria, stavolta a sinistra, pallone in area di rigore, viene allontanato per un momento alla difesa, rimesso in zona Giacomo, che anticipa così l'intervento del portiere, tutto regolare per il direttore di gara, è uno a zero vittoria. E nemmeno a dirlo ha segnato Ivana Giacomo, quarantacinquesimo, il Modica è lì, risponde presente dalla destra, il pallone finisce in mezzo. È tutto, solo Susino, troppo solo per fare uno a uno e per pareggiare immediatamente. Finisce così il primo tempo alla Gianni Cosimo, vittoria uno, Modica uno e dopo il pareggio dell'andata. Così sarebbero calci di rigore, inizia la ripresa, cinquantesimo, punizione, vittoria, ribattua sui piedi di Leggio che va a calciare fuori. Cinquantaquattresimo, una bella fraseggio a centrocampo, porta una nuova conclusione della vittoria dalla distanza. Il pallone non becca l'incrocio, cinquantasettesimo, entra Gueye, fuori Cannarozzi, sessantesimo dentro, Ardes fuori Sanchez. Sessantacinquesimo, retropassaggio in area di Mollica, Pontet tocca il pallone così per il direttore di gara, ne vale una punizione a due in area di rigore. Un paio di deviazioni, la sfera che finisce tra le braccia del portiere, dentro lo Nigro fuori Lucarelli a dieci dalla fine e poi calci di rigore. Tocca da Gudiac, aveva segnato in partita incredibilmente, stavolta sbaglia per il Modica, il primo lo tira. Belluso il pallone incrociato, finisce all'angolino basso, risponde la vittoria, collegio stesso rigore del precedente del 2-2. Il Modica torna nuovamente avanti, grazie all'ex IGA Virtusito Iaga di Hopp pareggia ancora i conti per il vittorio. Siamo sulle 3-3, inizia lo show firmato. Umberto Cernigliaro che disinnesca il rigore di Franco Fonte, rimette tutto in equilibrio permettendo al vittorio di portarsi avanti. Grazie al rigore realizzato dallo Nigro, poi Pontet mette i panni del rigorista e batte il collega Cernigliaro. Ancora Pontet che nega poi il gol a Gueye, i due portieri sono grandi protagonisti perché sul 4-4 Cernigliaro para a Sasses. Tocca ad Artes il pallone, finisce in porta, battuto Pontet, ancora una lotteria infinita. Palmisano contro Cernigliaro, conclusione centrale, tocca a Di Giacomo, non sbaglia nemmeno lui, serie di rigore praticamente perfetta in questa fase. Va mollica per il Modica, anche lui la mette all'incrocio e siamo sulle 6-6. Mititellu batte Pontet 7-6, Arken contro Cernigliaro lo spiazza 7-7, sferrazza per la vittoria la sua rincorsa e il rigore che vale l'8-7. Rossi contro Cernigliaro la rincorsa delle calciatori in maglia rosso-bru e Cernigliaro che decide di prendersi la copertina della partita spedendo il vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia eccellenza, finisce così contro il Modica. Grandissimo spettacolo, amici di questo video, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.